Le imprese impossibili di Bob Messini Si chiama GAER, Giovani Artisti Emiliano Magna Una struttura che mette a disposizione 2 milioni e 400 mila euro in 3 anni per promuovere giovani talenti under 30 Bob Messini ha un sogno nel cassetto diventare l'agente di una giovane, giovanissima artista Emiliano Romagnola sarà apprezzata dal grande pubblico Noi dobbiamo girare il mondo, noi dobbiamo fare delle grandi cose Alaska, Indianapolis, Messico Fammi vedere quei disegni Come ho tenuto in mente di fare questa cosa qui? Ma è bellissimo Tu hai studiato storia dell'arte, no? No Ecco, l'importante è che l'artista deve essere scevro da ogni influenza Tu sei perfetta Sei bonta a partire, gireremo il mondo Venezia, Hong Kong, Manco, c'era il passaporto Hai degli impegni, tu no? Io devo andare a scuola A scuola? A scuola Guarda che la regione mette apposta dei fondi per far girare queste opere, per far conoscere Non mi credi? Adesso andiamo in giro a sentire le persone cosa pensano di questi disegni E sentiamo se io ho preso un gran che o no Ma da me sei un po' matto Ma da me sei un po' matto No, no, ma che matto, ma che matto Questi disegni Lui vi sembra un grande artista oppure vi sembra una norma? Spicca un pochino, no? Come talento Sicuramente Sicuramente, perché la voglio mandare anche all'estero Si può ricordare una strategia Non diciamo cosa ricorda Non diciamo cosa ricorda Beh, è un gelato, già E questo invece è l'arcobaleno Ma è questo È un pello È tribale anche Quanto tempo ha la bambina La bambina è giovane e creativa, quindi avrà 9 anni C'è talento Molto 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 talento Perché io ho una nipotina di 9 anni che non ha questo talento Oh Oddio, guarda, io personalmente ho qualche dubbio, però assoluto Ah, lento Sì Perché sicuramente c'è molto talento E questo ha molti punti, molti punti E questo è il mio ragazzo E questo è il mio ragazzo E per te è pronto per governare C'è molto talento Molto talento? Sì Sì, bene, bene Ma cos'hanno detto? Cos'hanno detto? Che sei pieno di talento! Qui si sfonda, qui diventiamo genti Dai, Regione Meglia Romagna, dai Forza, facciamoci conoscere Andiamo all'estero Giovane e creativa È fatta Allora, hai capito come si fa, no? Sì Basta tenere d'occhio Tutti i siti dell'ufficio giovane dei comuni capoluogo di provincia Per vedere se c'è un progetto finanziato in tutti i strutturi delle arti, no? È semplice, no? Eh, allora vedi Anche a Quarelli? Anche a Quarelli? Non lo so, un po' d'Arche Un po' d'Arche Un po' d'Arche Un po' d'Arche Scusa Eh, eh, un po' d'Arche Eh È un'iniziativa realizzata grazie alla Regione Meglia Romagna Un po' d'Arche 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 Un po' d'Arche